Abbiamo notato come la menzogna stia apparentemente trionfando? Probabilmente molti menzogneri continuano a vivere ed operare inconsapevoli che la verità è nell'ordine ontologico delle cose e dell'uomo e che prima o poi riaffiora sempre. Non dimentichiamo che sono al servizio della menzogna anche coloro che tacciono sulle verità che avrebbero il dovere di diffondere per il bene di tutti, giornalisti, giudici, medici, politici, insegnanti, influencer, eccetera. Così vale per coloro che censurano le verità per il proprio tornaconto. Oggi ci vuole davvero un gran coraggio per difendere e propagare la verità. Preghiamo lo spirito di verità affinché scuota tutta l'umanità e la renda consapevole della propria ceccità interiore. Preghiamo lo spirito di verità.